La comunicazione è un'azione che mette in comune e quindi come tale è politica. Non ho lanciato la presentazione. Quindi come tutti sappiamo ha due elementi, l'emittente e l'icevente, che utilizzano uno strumento per mettere in comune attraverso un'azione qualcosa. Avvengono attraverso un contesto, come vi ricordava Francesca, e nel fare questo ci sono dei rumori che la disturbano e che sono proprio i veri nemici della comunicazione, cioè del fatto di mettere in comune. Il più classico dei nemici è il paradosso. Non so se lo conoscete, il paradosso del mentitore. Questa frase è falsa, è qualcosa che non si può risolvere, perché se è vero che la frase è falsa, naturalmente non è più falsa. Se è falsa, quindi non è vera di per sé. Quindi il paradosso, l'illusione, una comunicazione può illudere, la classica delle illusioni è la luna alta nel cielo che ci sembra di una certa dimensione, quando si abbassa l'orizzonte la vediamo più grande. La sua effazione, è vero questo, è vero, scritto sulle previsioni del tempo, fatto test, nessuno se ne è accorto, di sera dorme il suolo ovunque, è la cosa un po' inquietante. Altro problema, i fraintendimenti. Mi ha detto, vieni da me, non c'è nessuno, ci sono andato e non c'era nessuno. Le percezioni, lo vedete questo cerchio? No, è realmente un cerchio. Il problema è che il campo di contrasto non me lo fa vedere, quindi se io comunico, devo comunicare definendo bene un campo di contrasto, altrimenti non vedo le differenze. Quindi che cosa bisogna fare? Soprattutto in relazione al potere, naturalmente, perché se la comunicazione è un'azione che mette in comune, inevitabilmente entra in gioco il potere, perché entra in gioco la politica. Quindi va progettata la comunicazione, in che modo? Con la semplificazione, cosa che quasi nessuno più fa. Tenendo presente che, anche questo è qualcosa di cui si siamo un po' dimenticati, ci sono proprio delle istruzioni biologiche nell'uomo. Ci si è dimenticati perché col tempo ha preso il sopravvento nella comunicazione, hanno preso il sopravvento a altre cose. E su questo vi lascio poi nella riflessione una frase di Bauman. Prima istruzione biologica, garantire la sopravvivenza propria della specie a cui apparteniamo. Seconda istruzione biologica, soddisfare la natura di animale sociale, culturale e politico. Abbiamo tutti un patrimonio di pulsioni che sono incassonate nel DNA e che si attivano attraverso il desiderio. Desideriamo ciò che vediamo, come dicevamo uno dei più grandi psichiatri del nostro secolo, Anibal Lecter, e vogliamo soddisfare, desideriamo di soddisfare i nostri bisogni. Attraverso quali processi? La comprensione e lo scegliere. Questa è la comunicazione, è una comunicazione che crea delle gerarchie. Come soddisfare i bisogni? Anche su questo molto spesso c'è un po' di confusione. C'è una vera piramide dei bisogni, che vengono articolati in questo modo. Ci sono dei bisogni elevati e dei bisogni di base. Bisogni di base mangiare, dormire e così via, che corrispondono anche a una gradualità della società. Più i bisogni sono diversi, sono più elevati. Avere un bel televisore 50 pollici LCD, in qualche modo corrispondono anche a una gradazione sociale. Più i bisogni sono di base, più coloro che esprimono prevalentemente questi bisogni abiteranno nella periferia sociale. Come soddisfare, questo è il ruolo della politica, i bisogni limitati, i bisogni limitati degli individui con risorse limitate? Appunto facendo delle scelte. L'essenza della politica quindi è scegliere quali bisogni soddisfare. E il ruolo della comunicazione è definire quella che è la convenienza delle scelte. Perché tutti noi, per quanto possa sembrare poco nobile, facciamo delle scelte rispetto a quelle che sono delle convenienze. Progettare la comunicazione quindi significa semplificarla e rendere evidente qual è la convenienza. Nel fare questo non bisogna mai dimenticarsi, cosa che ha fatto molto il PD per esempio negli ultimi anni, che quindi bisogna scegliere, decidere cosa si vuole dire quindi, decidere come dirlo e poi anche dirlo. E questo, senza dimenticare, è quello che è il peggior nemico della comunicazione. Cioè la comunicazione c'è nel momento in cui c'è una comunità. In questi anni è stata prevalente l'idea che ciascuno dovesse in qualche modo fare politica da sé, quindi essere autosufficiente. E questo rende inevitabilmente inutile la comunicazione. Quasi, eh? Quasi.